di CerignolaViva.it, siamo qui con il campo Michele Cianci di Cerignola dove si allena di consuetudine la gioventù calcio Cerignola e siamo qui in compagnia del mister Michele Schiavone. Ecco mister, è stata una partita con il Real Foggia, una trasferta che servono i tre punti, li avete ottenuti, un 3 a 2, una partita molto bella e soprattutto parecchi gol. Sì, era una trasferta difficile, poi di mattina, comunque non siamo abituati a giocare di domenica mattina presto, bisognava portare a casa questi tre punti perché secondo me in questo momento del campionato, vedendo pure le avversarie, soprattutto questo Vieste che non si stacca da noi, era fondamentale far sì che tornassimo a Cerignola con i tre punti. i ragazzi mi hanno dato veramente una bella impressione perché hanno giocato benissimo soprattutto su dei ritmi molto alti, nonostante facesse caldo domenica mattina, abbiamo cambiato un pochino sia l'atteggiamento nostro mentale, abbiamo cambiato soprattutto anche il modo di allenarci e i risultati stanno venendo, sono abbastanza soddisfatto. Voi avete detto nelle vostre parole, soprattutto un Vieste che non si stacca da voi, infatti ricordiamo che nel campionato di terza categoria state appagliate a pari punti voi e il Vieste, forse non si aspettava questo campionato così da parte di questa squadra. Sinceramente mi aspettavo che il Rialt Foggia stesse con noi o quantomeno vicino a noi, conoscendo l'organico che ha a disposizione Borea. Invece in questo momento il campionato dice che il Vieste sta con noi. Dobbiamo stare concentrati, allenarci, abbiamo la fortuna di aver già riposato e quindi state ancora a pari punti con loro. Verranno a Cerignola, i ragazzi sinceramente dopo aver perso 3 a 1 a Vieste, i ragazzi vogliono assolutamente giocare questa partita quando verrà il Vieste a Cerignola, nel nostro ambiente non aspettano altro. Adesso dobbiamo pensare a domenica perché avremo qui in casa un avversario che viene da sette vittorie consecutive, che è il San Nicandro Garganico e ci stiamo allenando con la mente al prossimo avversario che sarà domenica prossima alle 16 contro il San Nicandro. Ecco, mister, appunto, mister Manduzzi ha dichiarato sui giornali che non vi darà vita facile, nonostante tutto che voi conoscete bene comunque l'ambiente di San Nicandro perché ci siete stati l'anno scorso. Sì, vabbè, lui non ci darà vita facile a noi e noi non darmo più facile a loro sicuramente. Ripeto, adesso dobbiamo pensare a partita dopo partita. Domenica viene il San Nicandro e i ragazzi hanno la testa appunto a domenica contro il San Nicandro. Daremo il massimo come facciamo dall'inizio del campionato e soprattutto rispettiamo tutti quelli che siano gli avversari che vengono qui o che incontriamo fuori casa. Mister, in questo campionato di terza categoria c'è anche una dieta sorpresa. Nella classifica marcatori domina Davide Sciscio con 21 gol, che è un ragazzo che voi avete preso dalle giovanili dell'audace, un cerignolano doc. Ecco, quanto è contento di questo traguardo che ha raggiunto Sciscio? Beh, Sciscio è un ragazzo che comunque ha meritato pure in prima squadra con l'audace. Ho anche altri ragazzi che sono stati con l'audace come Colangione, come Caggiano, come Dercole. Sono contentissimo per appunto questo risultato che lui sta ottenendo. Però sinceramente lui è un ragazzo anche molto atruista, gioca anche per la squadra. Quindi siamo tutti quanti contenti. Se è arrivato adesso a questo numero di gol così imponente è anche merito del gruppo che lo mette in condizioni di segnare. Mister, in ultimo vi lasciamo alla partita. Soprattutto il settore giovanile, lei ci conta tantissimo. Adesso stiamo facendo l'intervista dietro alle nostre spalle. C'è la partita dei giovanissimi contro il Foggia. Il Foggia Calcio è un amichevole di lusso per voi e soprattutto per far crescere questi giovani. Sinceramente se teniamo presente che abbiamo cominciato questo tipo di lavoro 5-6 mesi fa, abbiamo un numero imponente anche di bambini che ci seguono alla scuola calcio, abbiamo un grosso numero appunto di giovanissimi, abbiamo la prima squadra. Un lavoro che è cominciato 6 mesi fa non può essere una cosa positiva per me, perché abbiamo voluto, io e il mister Lorenzo Mancano, far sì che nasceste questa situazione qui, sfruttando la matricola della giovanissima calcio Cerignola, del presidente storico Savino Voltarella, ci ha dato la possibilità di usare la sua matricola, mettendoci anche a disposizione questa splendida struttura. Io sono contentissimo appunto che in sei mesi abbiamo avuto quasi 80 iscritti alla scuola calcio tra tutte le categorie, senza contare i 27-28 giovanissimi che vengono ad allenarsi e i ragazzi che partecipano al cambio di terza categoria. Speriamo di lavorare sempre come stiamo lavorando, impegnandoci. Io credo che comunque se lavori con la passione e con l'impegno i frutti prima o poi vengono. Perfetto, grazie mister, alla prossima. Alla prossima a te.